Buongiorno, sono Balduzzi Alessandro e vorrei ringraziare la commissione giudicatrice dell'edizione 2016 del concorso Europa ai Giovani per aver scelto il mio lavoro. L'idea di partecipare a questo concorso mi è venuta dopo aver letto la traccia Africa ed Europa. Perché? Perché partendo da questa poesia di Pierpaolo Pasolini, avendo come tema i rapporti atavici tra questi due continenti il tema attuale delle migrazioni, ho pensato quale occasione migliore per coniugare la mia passione per la lettura e un modo per comunicare e per rendere pubblica la mia esperienza come studente qui in Marocco. Infatti appunto adesso mi trovo in Marocco, a Marrakesh, come studente presso la facoltà di diritto dell'Università Qadir Yed. Sono qui da settembre e rimarrò fino a luglio ed è proprio questo il motivo per cui non potrò partecipare alla cerimonia di premiazione. Appunto ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno apprezzato il mio lavoro, mi scuso per non essere presente e mi auguro ci sia un'occasione in futuro. Buona serata.